fratelli bianconeri e non buongiorno fermo sotto una splendida ombra molto rilassato oggi ottava puntata dei campioni della juventus oggi parliamo di un calciatore che è stato prima di tutto una grande bandiera della juventus è stato dirigente della juventus e a mio personalissimo parere credo sia stato uno degli attaccanti più forti che si siano mai visti in italia che non è stato grandissimo secondo me come invece poteva diventarlo a causa di una malattia ma che sicuramente insieme a pietro anastasia ha formato una delle coppie d'attacco più belle che l'italia possa ricordare sto parlando del grande bobby gol penna bianca roberto bettega roberto bettega è veramente uno di quei calciatori che ha lasciato un'impronta veramente grandissima nella juventus perché è stato prima un calciatore fortissimo giocatore dotato di un'agilità in campo che sembrava veramente una libellula che ha segnato gol storici di tacco ma soprattutto lui era forte in una cosa soprattutto era bravissimo anche tecnicamente non si discute ma lui ha fatto del colpo di testa la sua prerogativa principale era un giocatore ragazzi bettega è stato veramente uno dei più grandi miti di demon un giocatore mai una polemica giocatore sempre comunque relativamente silenzioso ed è stato per questo forse anche che ha fatto parte poi della dirigenza juventina e oltretutto roberto è stato anche un giocatore un scusate un dirigente che nel periodo post calciopoli diciamo così non è stato mai condannato cioè è stato l'unico veramente dei tre che non ha subito nessun tipo di pena nessun tipo di condanna e per questo motivo io ancora oggi sono qui che mi chiedo perché un personaggio come roberto bettega sia costretto a fare l'opinionista tv in una televisione di bassa lega diciamola così come può essere etichettata a sette gold e con tutto il rispetto per i personaggi che ci stanno sia chiaro e invece non venga assunto assunto diciamo questa parola nella dirigenza della juventus veramente questa mi sembra una mancanza importante nei confronti di un uomo che è stato un grandissimo calciatore e a tutt'oggi un grande uomo ma soprattutto è uno juventino dentro perché roberto bettega veramente ha la juventus nel cuore giocatore che ha fatto una cinquantina di partite anche in nazionale e anche qui non ha ottenuto i risultati che forse avrebbe meritato Roberto bettega in giovanissima età è stato affetto dalla tubercolosi e purtroppo questa malattia che l'ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo sicuramente ne ha segnato un po' la crescita perché bettega ripeto diventò fortissimo ma poteva raggiungere traguardi ancora più superiori di quelli che ha raggiunto oltretutto gli hanno anche dedicato uno stadio mi sembra di aver letto da qualche parte tempo fa ma questo andrò a documentarmi su wikipedia perché non so se è stato poi confermato ma credo di sì non so se in argentina mi pare gli è stato dedicato proprio uno stadio stadio roberto bettega credo che si chiami e io credo che questo sia veramente un grande riconoscimento per uno dei più grandi juventini di tutti i tempi perché roberto bettega lo possiamo veramente etichettare uno dei più grandi juventini di tutti i tempi secondo me io ero realmente innamorato di questo giocatore come lo sono stato di molti altri giocatori di quel tempo ma secondo me bettega può essere veramente accostato a campioni come gaetano scirea veramente perché era un giocatore che non polemizzava mai dava sempre il massimo cercava di trasportare era anche un leader in campo perché non dimentichiamoci che poi roberto bettega ebbe un po' una piccola diatriba con pietro anastasi infatti pietro anastasi poi se ne andò dalla juventus mentre bettega fece tutta la carriera alla juventus tranne gli ultimi mi sembra due anni quando ormai era sul viale del tramonto alla sua carriera che andò a giocare in america se non ricordo male nei cosmos dove guarda caso arrivò fece il primo gol e come segnò di testa e mi posso permettere di dire anche una cosa io credo che roberto bettega sia stato veramente l'unico calciatore italiano parlo che poteva essere paragonato oppure lui è stato paragonato a bettega poteva essere paragonato a marco van basten secondo me erano due giocatori veramente molto molto similari hanno dimostrato tutta la loro forza sia in italia che all'estero sia nella loro nazionale nella squadra di club hanno fatto meraviglia ma di van basten ne parleremo poi in un'altra occasione ho fatto solo per fare un esempio sulla tipologia del calciatore io credo veramente che roberto bettega sia stato un giocatore davvero unico davvero inimitabile davvero inimitabile era dotato di una tecnica sopraffina aveva una grande visione di gioco era ambidestro perché giocava sia di destro che di sinistro e questo ne ha fatto veramente un grandissimo campione un grandissimo campione e io sono veramente un po' deluso dal fatto che un giocatore come Roberto Bettega non sia nella nostra società secondo me lo meriterebbe perché vedere Bettega andare a parlare ed essere anche alle volte deriso per quello che è stato in una televisione come 7 Gold io sinceramente non ci sarei andato fossi stato il Roberto Bettega secondo me Bettega meritava palcoscenici più importanti lui ha accettato evidentemente gli avranno dato dei soldi importanti per accettare perché non credo che vada a fare la bella statuina in un programma del genere a gratis non credo almeno però ripeto ognuno poi è padrone della propria vita di scegliere quello che più gli aggrada io ripeto io credo che Bettega sia stato veramente per un certo periodo la Juventus veramente e ha fatto parte di quella formazione meravigliosa con Zoff, Gentile, Cabrini insomma con campioni che ragazzi ecco perché anche quando io parlo di giocatori campioni io parlo di questi campioni questi sono i campioni veri non i presunti non i falsi miti che noi cerchiamo di costruire in Italia tutte le volte che ci fa comodo questi erano i campioni e non avevano bisogno di gente che gli lavorasse sotto per farli crescere perché questa è tutta gente che si è fatta da sola si è fatta veramente con i sacrifici si è fatta veramente giocando su campi come dice sempre Damon figli di un calcio che non c'è più io credo che Roberto Bettega da parte di noi Juventini meriti veramente un grande encomio un grandissimo applauso per il suo passato e credo che meriti veramente di essere diciamo così andatelo a vedere perché è un altro di quei giocatori come tanti altri di cui parleremo meritano veramente di essere seguiti bettega appartiene a quella schiera di grandi campioni che non si dimenticheranno veramente mai dove si cercheranno sempre nuovi miti da affiancargli ma credo che bettega sia un giocatore inarribabile veramente inarribabile e noi juventini dobbiamo essere veramente orgogliosi di aver annoverato nelle file della nostra amata Juventus giocatori come Roberto Bettega perché non erano calciatori di calcio prima di tutto erano juventini e prima di diventare calciatore Bettega era un tifoso della Juventus poi è diventato giocatore ed è diventato un'icona poi è diventato un dirigente e nonostante quello che è successo è stato sempre esentato da tutto un uomo veramente pulito veramente pulito un uomo serio un uomo bravo un uomo competente io ho avuto il piacere di conoscere Roberto più riprese lui lo sa che io sono uno dei suoi più grandi estimatori e ripeto mi dispiace vederlo dove è adesso perché io credo che Bettega meriterebbe veramente altri palcoscenici però ripeto ognuno dalla propria vita fa quello che meglio crede io Bettega me lo voglio ricordare da calciatore un giocatore che mi ha fatto godere veramente come pochi altri perché è un giocatore che Daemon ha veramente amato alla follia veramente amato alla follia documentatevi anche su Roberto Bettega ragazzi credetemi ne vale la pena ciao ciao